La riunione della cabina di regia sul piano nazionale di ripresa di resilienza che abbiamo tenuto stamane è stata un'occasione per fare il punto sugli investimenti messi a terra finora da Regione Friuli Venezia Giulia e dal suo sistema degli enti locali ed anche per realizzare delle nuove iniziative a sostegno delle nostre amministrazioni locali nella volontà comune di garantire gli investimenti sul territorio e semplificare le procedure. Un miliardo e mezzo sono le risorse già assegnate alla nostra Regione sulle sei missioni. L'obiettivo per noi è consentire procedure sempre più snelle ed anche veloci per la messa a terra delle risorse stesse. Di questo, di digitalizzazione e di semplificazione appunto dell'accesso a questi bandi abbiamo parlato oggi e su questo organizzeremo un ciclo di incontri anche tecnici sul territorio da settembre per ulteriormente avvicinare i comuni, soprattutto quelli meno strutturati, alle grandi occasioni che sono sottese al PNRR.